Vieni in mente, un po' di attenzione. Presente, io voglio essere attento, la sua parola di relazione dei messi, di relazione dei messi, di relazione dei conti, cattiva gestione di cattore amministe, e voglio essere attento di evidenziare alcuni effetti della cattiva gestione di cattore amministe, ci stanno in cui continuiamo. Allora, vorrei evidenziare che nel 2012 c'è stata una riduzione di caputante da 483 mila euro a 64 mila euro di riduzione del corso della caputante. 483 mila euro per il 2012, 364 mila euro per il 2013. Il nostro Paese ha sento un po' dopo un salario di campagna per la decenzione di raccota differenziata, al 65%. C'è stata una comparazione positiva dei conti, da 2012 a 2013, di circa 161 mila euro. C'è stata la riduzione del corso del personale, da 724 mila euro per il 2012 a 7.594 mila euro per il spazio di 130 mila euro. C'è stato un punto di accantonamento di rispredditi di 725 mila euro. C'è stato un punto di accantonamento delle condizioni di cattolino di 95 mila euro. C'è stato un punto di livello del 515 mila euro. C'è stato un punto di rispredditi di 725 mila euro. C'è stato un servizio che sono stati assolutamente in questi tre anni. L'ottico servizio che è stato svolto per la raccota differenziata sotto la porta, che io ricordo in tre anni, non è mai stata un ritiro. Che io ricordo da 15 anni a dietro non erano mai stati i 20 anni che non erano problemi. Abbiamo fatto una modifica di cittadati che non veniva fatta da tantissimi anni. E tantissimi altri cittadati che non erano problemi, ma che abbiamo fatto normalmente. Si parla del sistema carattolino, si parla della punta politica, di statistiche e altre cose. Io ritengo che se questi sono i numeri, ben venga la carattolino, ben venga il sistema carattolino. Sicuramente si può fare di più anni e anni, ma il parco di 1.660 mila euro non è da tutti. Se si rispettano con le posizioni o i mezzi che sia più bravo a gestire la società, ben venga. Grazie. Grazie, Lucia.